Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Giacoloni XWAP Questa sera facciamo, quest'oggi, facciamo Glim, una pod by Inokin Ed eccoci qua ragazzi con Glim by Inokin Una pod, classiche avvertenze che ormai siamo abituati a vedere All'interno della confezione abbiamo una Glim Mod con una batteria da 500 mAh Un Glim Pods con all'interno una resistenza da 1.2 Ohm Per una capienza di 1.5 ml Cavo di ricarica, manuale, libretto di avvertenza Apriamo la confezione e abbiamo la nostra Glim Purple Questa è la nostra resistenza Come avevo detto prima e si nota anche qui Resistenza 1.2 Non vi è la possibilità di sostituirla Come potete vedere è un corpo unico Quindi quando andrete a cambiare, cambierete l'intero corpo Non ho la possibilità di estrarre la resistenza e cambiarla Batteria da 500 mAh Spinotto USB per la ricarica All'interno abbiamo il nostro spinottino Un'altra pod di ricambio e varia manualistica Come potete vedere non viene sul tasto Quindi è automatica Bene, andiamo a fare il refill Come potete vedere Qui vi è la zona di refill Premendo questa apertura dove c'è anche uno sfiato Si abbassa E potete inserire il liquido Totalmente caricata All'inserimento Si accende la lucetta Bene ragazzi, ci vediamo con la mia testa pelata Per la prova di svarto Allora ragazzi Glim, una pod Taggata Inno Kid Una classica pod Con cartuccia univoca Quindi non potete cambiare la resistenza Dovete buttare via tutto Con una resistenza da 1.2 Batteria da 500 mAh Con la ricarica anti goccia Che funziona divinamente Un prodottino Che non gli date niente Ma che è una roba allucinante Si vede che è di Inno Kid Io ci sto provando Un tabacco sintetico Tabacco Ticino Tappo Rap Evolution È un tabacco secco Qui esce divinamente Questa podina qua Da tanto A tantissime altre marche Guardate che vapore che fa E in più Percepite anche un buon hit Aroma Spaventoso Dal resto Le testine di Inno Kid Non le batte nessuno Non gli avrei dato Un euro È una cosa spaventosa ragazzi Se volete Una podina Da guancia Senza nessun impegno Con testine Sapete che sono testine eccellenti Questa è eccezionale ragazzi Guardate io Come ben sapete Noi di questi prodottini qui Siamo molto sfiduciosi Non siamo amanti Questa mi ha stupito Mi ha stupito Perché è veramente una cosa Allucinante Grazie Inokin Che dire ragazzi Compratela Perché Ve la tenete in tasca Guardate che vapore che fa Sta consigliata Compratela ragazzi Con questo vi saluto Ci vediamo al prossimo video Va bene Ciao